Da oggi parte un altro servizio della raccolta differenziata nel comune di Catanzaro e verrà recuperato finalmente l'olio vegetale esausto. Allora praticamente l'olio rinveniente dall'attività di fritture, dall'attività che viene svolta nell'ambito domestico. Il servizio è molto semplice, basterà raccogliere l'olio di queste fritture in una semplice bottiglia di plastica, quindi chiuderla e conferire in una delle 15 postazioni installate nel comune di Catanzaro affinché venga finalmente recuperato. Quindi si passa da un rifiuto che prima non veniva tracciato, perché prima veniva forse buttato nella fognatura, versato nel lavandino, ad un rifiuto che oggi avrà una sua destinazione, quindi ad un impianto di recupero. Allora gli effetti sono quelli che chiaramente ostruiscono le fogne e poi messo con l'acqua l'olio diventa proprio una cosa, forma proprio una patina, uno specchio d'acqua e dei danni irreversibili. Invece così riciclandolo diamo vita ad una materia prima secondaria che potrà essere impiegato come grasso per l'edilizia, come glicerina, da estrazione, come saponette, darà vita anche al biodiesel, molteplici nuove forme.